Ciao ragazze, ciao a tutti, bella rega, innanzitutto vi ringrazio per aver concesso questa intervista, è sempre un piacere, concetti che? Partiamo, nome? Federica, veri, ma perché c'è ancora qualcuno che non me conosce? Righetta comunque, lei è sempre artist perfetta, professione? Attualmente content creator, è influencer naturalmente, youtuber preferito? Ce ne sono diversi a dire il vero, veramente tanti, tra quelli che seguo più spesso c'è Shai di Breaking Italy, Will Bush e ultimamente sto seguendo anche un altro youtuber che mi hanno fatto scoprire che si chiama Soul Mafia, a dire verità io li seguo molto sti youtuber perché youtube non mi piace tanto come social, è un po' troppo impegnativo, mi piacete più guardare TikTok perché secondo me è meglio, è più veloce, è più istruttivo, ci stanno i video che sono un po' più interessanti, insomma ci stanno quelli che ballano, quindi no, non ho uno youtuber preferito, ho solo i tiktoker preferiti. programma tv, non guardo la tv, però le poche volte che mi capita di guardarla probabilmente sto seguendo propaganda live, è programma tv, è programma tv uomini e donne, è il trono over, oddio sono decisa, pure Temptation Island non mi piace molto, o se no è il grande fratello VIP, vabbè insomma sti programmi qua. L'ultimo libro che hai letto? L'ultimo libro che ho letto è Maschile e Femminile di François Heretier, l'ultimo libro che ho letto, ce l'ho qua e ve lo faccio vedere, è questo qua, è il libro da Chiara, non so se vi ricordate ma l'avevo pure fatto vedere in un video e mi è piaciuto molto, oddio addio la verità non è che ho letto tutto, è scritto un po' difficile per me, però ho letto la copertina e la copertina mi pare che è un bel libro comunque, quindi è questo, io ho fregato a Femminile, ma lo so letto io, così si smentisce pure il fatto che io non leggo, 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 ogni tanto, a pagina interna, però leggo. Definisciti con tre aggettivi. Allora, pacifica, troppo sensibile, intuitiva, allora, cagliarda, para e sveglia, molto sveglia. Definisci l'altra con tre aggettivi. Cagliarda, paragola, sveglia, mutitico subito, ferie, perfettina, maestrina, maestrina perfettina, esigente, una cifra. E come si dice quando uno ce l'aveva sempre ragione, vabbè, insomma, c'ho sempre ragione, vai, e non crei porlacce, perché tanto averti sempre. Sei innamorata? Sei innamorata? Sempre, a voglia. Che cosa ti fa innamorare di una persona? La gentilezza e la profondità di pensiero. Allora, c'è stanno due cose che mi fanno innamorare la cifra, e so l'orecchino e la camicia, principalmente ste due. Ami qualche ragazzo? E' Federico. Allora, regà, a me non mi piace parlare tanto delle cose mie, su questo aspetto sono un po' riservata, però c'è una cosa valese che vi posso dire che, insomma, dopo sta quarantena c'ho mezzo un piccio con Leonardo ASMR, niente di che, però vedo che lui mi guarda e io guardo. Ogni tanto guarda pure Feri, non capito se gli piace di più lei o gli piace di più io. Comunque penso che non potete negare un bel ragazzo, e io lo vedo più adatto a me che a Feri, a dire la verità. Sogno ricorrente? E' la maturità, in particolare sogno che devo svolgere l'esame orale di maturità e non ho studiato assolutamente niente e manca pochissimo. E certe volte durante il sogno mi rendo conto, per fortuna, di essere già laureata e quindi dico, ah vabbè ma io non devo fare per forza l'esame di maturità. Però è un mezzo incubo questo sogno. Io li incubi non li faccio, infatti il sogno mio più ricorrente è che diventa ricca. Cosa ti infastidisce? Troppe, troppe, troppe cose. A me mi infastidiscono le persone forse, a farsi da. Trigger preferito? Amo da impazzire il whispering e mi piace moltissimo anche il tapping veloce e anche il suono delle dita che scorrono sulla tastiera e della penna che scrive sul foglio di carta. A me come trigger mi piace una cifra, l'aere araba. Non so se già avete presente, ci sono certi ragazzi che hanno l'aere araba che praticamente è un aere che gli arriva da qua, che gli parte tutta qua e gli vibra tutta qua dentro. Io quando sento l'aere araba impazzisco. Quell'air trigger è il mio preferito, sì. Youtuber ASMR più antipatico. Ma ti dirò io tendenzialmente vado d'accordo con tutti e sono amica della maggior parte delle persone all'interno della community, almeno di quelle che ci sono da un po' più di tempo. A quanto ho capito sono io a non stare troppo simpatica a un paio di persone, ma in realtà parlo anche con loro, quindi da parte mia non ci sono particolari antipatie. Non lo so, a me mi stanno antipatiche tutte queste ragazze che si strusciano, che si sperdicano, che si sbagliano. Cioè, io lo posso fare, però rosico un pochetto sì, lo fanno pure altre. E poi, no, capisco questa cosa. Cioè, state bene tranquille. È inutile che vi dovete far vedere. Ma da chi vedo dovete far vedere poi? Pure su Instagram mettono certe foto, armare, costume, cioè io un po' ste cose ne capisco. Per me, le femmine dovrebbero fare femmine e le uomini dovrebbero fare le uomini. Quindi, una femmina si deve fare corteggio e per farse corteggio non si deve svestire troppo. Perché sennò pur di che ci sto provando, no? Ovviamente, queste regole non vargono per me. Io, come al solito, posso fare un po' come mi pare. Con chi hai legato maggiormente? Ho stretto delle bellissime amicizie con davvero tante persone. E, insomma, l'elenco sarebbe piuttosto lungo. Ma te posso dire, io ho legato una cifra con i maschi. Perché mi stanno più simpatici. Mi piace un sacco ASMR d'Orian. E quelli un po' così come lui che non hanno paura di dire cosa in faccia. Ti addormenti con i video di... Mi addormento prevalentemente con le voci di... Jessica, Butterfly, Whispering ASMR, Priscilla, Marco e Davide Belardi. Ultimamente con loro. No, io non mi addormento con i video di nessuno. Al massimo un po' di fragolino e mi stanno. Facci un trigger? Questo mi sta piacendo tanto ultimamente. Facci un rottormento. Facci un pro Danger, Divisimo. Facci un progetto. Facci un progettivo, Av caminho senza color. Facci un progettivo. Facci un progettivo. Faccio e valini. Faccio il progettivo... Faccio il progettivo di ovidete. non so che tricker vedevo fa, mi faccio questo che poi mi sono pure sbragata in dito, non so se è venuto tanto bene vabbè ve lo tenete così come ve lo ho fatto asm artist straniero preferito? asmr zeitgeist sicuramente raga come ho detto io non conosco tanto sto mondo dell'smr però c'era una ragazza che mi piaceva una cifra e a dia verità c'è peccato che era una donna perché se no veramente ci avrei fatto un bel pensiero e si chiama T-H-E-T-E-T-E-O-N-E-L-I-L-I-U-M ma lo ricordo perché mi è rimasto un pressor nickname anche se non ho capito bene che porti è una bionda che poi si è fatta a moro e non so che lingua parla ma mi pare che è inglese però pare che l'è tipo da Danimarca o forse da Norvegia non lo so, non c'ho ben presenta la geografia fai una raccomandazione all'altra Righetta fai la brava e mi raccomando non essere troppo cattiva quando fai le reaction ai miei video Averi, ogni tanto fatte l'analisata che magari domani ti risvegli sotto ancipresso e levati qua a scopa saluta nel tuo stile vi lascio la buonanotte e ci vediamo se vi va nel prossimo video bacini fatosi bello a tutti patatonsi e patatonsi vi saluto e vi ringrazio forza Roma a passala Lazio 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 che si è fatta